Musica I pozdrav svima, malo kasnimo sa izvlačenjem, trebalo biti u 15.00, ali imao sam neki privatnih obojeze, pa nisam mogo da stignem baš. Da stignu na vreme da to sve snim i zvučemo, ali dobro, skoro četiri sata. Da, malo osviđimo da joj refrešimo u stranicu, što se događe? 158. Da, malo osviđimo da je očekio da će oko brzo doći stranica, već je preko 600 lajkova. Juče nisam imao vremena da se to namestim i zvučem. Ajme privatni oboze, ne budu samo da mislim na Facebook i na grupu. Nima i drugi stvari. Tako da sam sad našao vremena, stvarno sam u gužvi. Da, izvučemo od 2x50k do 740rp. Ja. Hvala vam na... Na lajkovima. Nadam se da će mići još gore. Da sledi još give videova. Tako da... Baš da naduživim moga ove video da što pri to... Sređim mi stajim da što pri givu dogaju sve kifte. Tako da ćemo... Krenutel izvlačeno. Krenutel izvlačeno. Dakle ćemo nešto kam napišemo. Doku izvlačenje. Sjetično. Krenutel. Krenutel. Značično. Krenutel. Na, hvala vam da je gledamo. Sret s svima. Da vidimo ko će ovaj put, malo ćemo je pristamo. Odadno opet profile, da vidim da li se to sharovali. Kao što piše jer su me postavili da treba li se share-ova status. I da se like-uje. Pa... Ajde da vidimo! Ok è skipato! a noi da andata. Ok, ok! Refresh! Ok. 158 potenzialni dobitnika, idiamo sredci na pick winner da vediamo koga će ove pute da izvučemo. Dva pute da izvlazimo, idiamo pick winner, prvi pick winner da vediamo koga è prvi dobitnik, potenzialni dobitnik. Buon provalvet Dali det usher 1 3 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 Ora vediamo altri video, vediamo cosa c'è in frame. Oficialna stranica. Stai avuto. ... ... ... ... Il video è molto più lungo, ma non dovrebbe essere molto uguale. Annamarija Milic. Non c'è nessun video, non c'è nessun video. C'è l'ho, l'ho direto, share. Like, share. No, c'è questo il video. Non c'è l'ho dire. No, non è il video. Non c'è il video. C'è l'ho dire. C'è l'ho dire, l'ho dire. C'è l'ho dire. C'è l'ho dire. ... E' un po' di più. Sì, è vero. Grazie a tutti. Oh, è bitto. C'è chiaro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.